Ciao a tutti, sono Francesca Cucca, vengo da Sassari e sono laureata in Ingegneria Elettrica triennale e sto concludendo quindi la specialistica sempre in Ingegneria Elettrica. Si stanno concludendo queste tre settimane alla Mindy Bridge. Le sensazioni sono tutte molto positive, lezioni molto interessanti e con professori veramente in gamba. Sono venuta senza una particolare idea, senza un'idea imprenditoriale, però ho seguito comunque gli altri progetti e quindi auguro a tutti nella vita di poter fare questa esperienza perché è stata veramente positiva da tutti i punti di vista.